1962 Apartheid l'assemblea generale dell'ONU condanna il Sudafrica 2000 Porto Gruaro una bomber colpisce ancora 1860 Abraham Lincoln eletto sedicesimo presidente degli Stati Uniti d'America commenta il fatto del giorno Paolo Boldrini direttore della Gazzetta di Mantova oggi ho scelto di parlarvi della morte di Enzo Viaggi uno dei più grandi giornalisti italiani